Consiglio Comunale Fiume a Castione della Presolana, l'inizio dei lavori intorno alle 16.30, la chiusura poco dopo le 3.30 di notte. 18 i punti all'ordine del giorno e come era nell'aria e prevedibile dalle emozioni presentate dalle minoranze, non sono mancate polemiche e discussioni. Tutte le alzate di mano sono passate infatti con il solo voto della maggioranza, mentre la Lega Nord di Fabrizio Ferrari, Comun insieme di Sergio Rossi e l'ex capogruppo della maggioranza, ora consigliere e battitore libero Fabio Ferrari, hanno sempre espresso la propria contrarietà. Ai primi due punti la surroga di due consiglieri entrano nell'assemblea Viviana Ferrari al posto di Serafino Ferrari, mentre Mattia Ferrari sostituisce Michele Mignani. Tra i punti principali all'ordine del giorno, la determina dell'Imu. La maggioranza ha deciso di allinearsi alle aliquote suggerite a livello di unione dei comuni della Presolana. Per le seconde case si sborserà, come è noto, l'8,4 per mille, per la prima il 5, per i fabbricati rurali l'1. Ha approvata anche una dichiarazione di intenti che prevede l'impegno da parte dei primi cittadini ad attivarsi per sostenere l'unione dei comuni nel percorso di aggregazione delle funzioni fondamentali dei servizi. Con il documento ci si impegna anche alla costituzione di un unico organigramma presso l'unione dei comuni di tutti i dipendenti facenti capo a ogni paese. Ha approvato, a ora tarda, anche il bilancio di previsione. Ieri sera nel Consiglio Comunale di approvazione del bilancio è stata persa un'occasione per dimostrare un'eventuale collaborazione. Lo struzionismo è stato chiaro dall'inizio, pertanto purtroppo non si è potuto discutere di nulla. Discutere di un bilancio previsionale che per noi è veramente il frutto di un anno di lavoro insieme con i funzionari del Comune. Siamo veramente soddisfatti dei risultati raggiunti perché le nostre promesse elettorali si sono trasformate in un bilancio triennale tramite degli strumenti tecnici che permetteranno sia alla cittadinanza e a tutte le persone che vorranno conoscere di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione dei nostri obiettivi. Già da settimana prossima saranno sul nostro sito e voglio solo rimarcare il fatto che fino ad ora Castione della Presolana aveva un bilancio fondato su 7 programmi, noi ne abbiamo aggiunti più del doppio, quindi sono 13 programmi con 80 progetti. Di questi 80 progetti hanno già avuto inizio il 20% e contiamo pertanto di portare un vento nuovo a Castione che permetterà pure in questi momenti di crisi di mantenere il mercato e di avere un livello di servizi per i cittadini ancora ottimo. Per quanto riguarda il bilancio previsionale siamo riusciti insieme con l'Unione a concordare un'aliquota per quanto riguarda la tassa Imo che ci ha permesso di mantenere il bilancio in pareggio. Questo per noi è un risultato anche qui veramente importante perché per la prima volta Castione, dopo anni, non utilizza la costruzione di seconde case per finanziare la spesa del Comune. Quelli che saranno gli oneri di urbanizzazione, che saranno ovviamente minori nei prossimi anni, verranno destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture. La spesa corrente invece verrà finanziata con le entrate correnti. E questo, oltretutto, in questa fase si è riusciti anche a non aumentare le tasse perché non abbiamo introdotto l'addizionale IRPEF, non abbiamo introdotto la tassa di soggiorno che tanti comuni stanno utilizzando per arrivare al pareggio di bilancio e oltretutto siamo riusciti a ridurre dell'8% l'imposta comunale sui rifiuti, la Tarsu. Pertanto siamo veramente contenti dei risultati raggiunti sia per le linee programmatiche dell'amministrazione di Vivi Presolana e sia per la collaborazione con i funzionari comunali. Ieri si è svolto un consiglio comunale di ben 11 ore che dopo numerosi mesi dall'ultima convocazione ha visto trattare ben 18 punti all'ordine del giorno. Tutti importantissimi. È chiaro che ora bisogna essere sintetici e pertanto al di là della trattazione del consiglio bisogna entrare nel merito e vedere innanzitutto cosa si è trattato e di conseguenza non si può non parlare di IMU. Secondo me qui c'è stato un appiattimento da parte del Comune sulle posizioni dell'Unione dei Comuni senza trattare adeguatamente il patrimonio e il gettito che avrebbe potuto dare comunque il Comune di Castione attraverso il suo patrimonio immobiliare. E quindi qui c'è un appiattimento della nostra amministrazione, anzi della loro amministrazione. Secondo luogo sulla gestione delle funzioni e dei servizi dell'Unione dei Comuni la lettera di intenti che è stata trattata nel Consiglio Comunale dimostra ancora una volta che l'amministrazione targata Pezzoli non riesce a trattare adeguatamente e a portare a casa quei servizi e quelle garanzie, soprattutto le garanzie, che il Comune di Castione non perda in servizi e non vada a fare da tappabuchi agli altri Comuni. Terzo luogo la Commissione Tecnico Consultiva. Il Sindaco non ha fornito alcuna risposta e abbiamo ancora adesso un Comune che viene gestito da tre persone conosciute solo al Sindaco e al Vice Sindaco. Sul taglio invece al Parco Alpini nessuna risposta, nessun progetto è stato presentato, perciò rimango della mia opinione che gli è scappata di mano la situazione e che dovrebbero scusarsi con la popolazione per il danno irreparabile che è stato fatto. In conclusione viene da dire che dopo 11 ore di Consiglio Comunale vedere un Sindaco che alle 3.10 tratta il bilancio di previsione dimostra poca serietà, soprattutto quando dice che non c'è stata collaborazione da parte delle altre rappresentanze consigliari. Io mi auguro che nei prossimi mesi non avvenga più questa programmazione dei lavori e si cerchi di coinvolgere tutti i castionesi e le persone migliori che abbiamo sul territorio per fare un'amministrazione per evitare che, come al Parco Alpini, si rischi che la situazione scappi di mano. È un Consiglio Comunale Fiume, dopo 4 mesi che a Castione non si parla di Consiglio Comunale arriva una convocazione con 18 punti all'ordine del giorno e non sono punti all'ordine del giorno leggeri, sono punti all'ordine del giorno molto importanti e molto, voglio dire, pregnanti anche di significato e di conseguenza. Ovviamente un 11 ore di Consiglio Comunale era forse prevedibile che con un ordine al giorno così nutrito si richiedesse tutto questo tempo. Ovviamente questi punti sono stati per certi aspetti anche, non dico approfonditi, ma magari semplicemente sfiorati perché non c'è il tempo, anche perché alcuni punti addirittura io credo meritavano addirittura una convocazione specifica di Consiglio Comunale. Ci sono argomenti che banalmente coinvolgono tutto il Paese e di conseguenza non si può ridursi in una nottata, alle due o alle tre di notte pensare di poterla far fuori in questo modo e quindi chiudere la partita. Noi ovviamente abbiamo cercato di dare il nostro contributo forse anche un po' polemico per certi aspetti ma da queste nostre polemiche sono emerse anche delle contraddizioni e delle cose molto interessanti. Ad esempio che la posizione dell'ex capogruppo all'interno di questo gruppo di maggioranza che oramai si è diviso e c'è in corso una scissione sono emerse delle informazioni molto importanti, molto interessanti che fanno capire come questo gruppo di maggioranza sia tanto fumo e poco arrosto. L'ho definito una punta dell'iceberg perché evidentemente quello che si vede è poco ma non è neanche pregnante per quel poco che si vede e sta tutto sotto. L'esempio è questa commissione e anche qui sono uscite delle cose molto interessanti perché sembra di capire che questa commissione abbia il desiderio anche di occuparsi di cose extra non solamente di quanto è stata chiamata ad occuparsi. Noi siamo preoccupati siamo preoccupati perché ci sembra di capire che la situazione stia sfuggendo di mano al sindaco caparbiamente il sindaco non ci ascolta contrariamente a quanto erano i principi dettati da questo gruppo di maggioranza trasparenza non ce n'è, dialogo neppure continuiamo a chiedere che vengano tenute degli incontri anche ristretti con i capogruppo non se ne parla assolutamente e si pretende in un consiglio comunale di farla fuori hanno devastato un parco degli alpini hanno tagliato 56 alberi in un punto che non era necessario tagliarli stiamo chiedendo a gran voce di discutere ad esempio come è emerso ieri sera tra le righe del bilancio si chiudono le scuole di Bratto o meglio si vende l'edificio delle scuole di Bratto si presume che debbano essere chiuse e il sindaco ha confermato che c'è in corso questa iniziativa di chiudere le scuole di Bratto ma la cosa più preoccupante è di mettere anche sul mercato l'edificio con la proprietà l'altro aspetto salta fuori ancora ieri sera che si vuole riaprire le scuole di Dorga per fare che cosa? non si sa quanti soldi serviranno per rimetterle in piedi? non si sa insomma poche idee e molto confuse grazie a tutti